Con la circolare del Ministero della Salute che permette di anticipare da 5 a 6 mesi la cosiddetta dose booster, la terza dose, gli hub vaccinali hanno lavoro in più e già prenotandosi in questi giorni sulla piattaforma, la possibilità di vaccino viene anticipata a 5 mesi. La somministrazione delle terze dosi alle categorie previste inizialmente è iniziata già da un po', ma ora si aggiunge quella Iover 40, possibile dallo scorso lunedì, a patto che siano passati i mesi stabiliti. Le prenotazioni sono tante per gli Iover 40 e quando partirà la vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni probabilmente sarà necessario il coinvolgimento dei pediatri di base. Per ora, nonostante la grande richiesta, non ci sono particolari problemi e sull'Aquila gli hub di riferimento restano due, San Vittorino aperto la domenica e Bazzano sino al venerdì. Abbiamo indubbiamente tante richieste per quelle che sono le vaccinazioni degli Iover 40. Abbiamo due hub che funzionano perfettamente e sono degli hub super attrezzati, per cui non avremo difficoltà nell'accogliere tutte le richieste. Abbiamo un numero sufficiente di operatori sanitari, medici, infermieri, operatori sociosanitari, per cui non ci preoccupiamo e siamo pronti ad affrontare quella che è la richiesta. Voi tenete presente che durante il periodo clou, quando c'era praticamente da fare le prime dosi, siamo arrivati in tutta la provincia a superare le 3.000 vaccinazioni al giorno. Di conseguenza siamo pronti ad affrontare anche le nuove richieste. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni pediatriche, che ci auguriamo avvengano il più presto possibile, intendendo per le pediatriche dagli 11 ai 5 anni, naturalmente attendiamo quelle che sono le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e sicuramente verranno coinvolti anche i pediatri, che ci daranno una grossa mano nell'effettuazione delle vaccinazioni. A livello di contagi in provincia inoltre, sostiene il dottore Enrico Gianzante, la situazione è stabile, con qualche punta in malle peligna, ma la situazione dimostra che la vaccinazione è efficace, si allontani dai numeri del periodo più nero. Oggi abbiamo numeri decisamente contenuti, con qualche contagio un po' più evidente a livello della Valle Peligna Sangrina, ma sono numeri decisamente contenuti che riusciamo a controllare e di questo dobbiamo, lo ripeto ancora una volta, ringraziare la vaccinazione.